Fino al 26 dicembre tornano a riaccendersi le luci della casa di Babbo Natale a Castelcastagna. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, quella 2021 è una special edition. Manifestazione che ricordiamo negli anni ha fatto registrare numeri record arrivata a richiamare nel piccolo borgo dell'entroterra del Terramano fino a 50.000 visitatori l'anno. La sesta edizione dell'evento ha come obiettivo quello di dare un segnale di ritorno alla normalità e riaccendere la speranza. Un anno di stop dovuto al covid quest'anno abbiamo deciso, va detto con tanto coraggio, di rifare la casa di Babbo Natale a Castelcastagna perché le richieste sono state infinite in questo anno e allora abbiamo deciso con tutte le precauzioni del caso chiaramente di ridare magia ai tanti bambini della provincia di Terramo, della regione Abruzzo ma anche di fuori che verranno a farci visita. Se non ci fosse un lavoro di squadra questa è un'iniziativa che non potrebbe essere fatta in questo format nella maniera più assoluta. Quindi un grazie veramente a tutti. Come diceva lei quest'anno chiaramente è una edizione speciale, speciale perché l'abbiamo dovuta adattare a tutte le limitazioni del covid. Però è vero che abbiamo voluto mantenere proprio la magia di questo luogo e di questo posto. Quindi veramente adesso attendiamo che tanta gente ci venga a far visita. Siamo in compagnia del padrone di casa che oramai possiamo dire ha trasferito la sua residenza dal polo nord qui a Castelcastagna. Sì esatto. Ci siamo trasferiti perché quando sono andato in vacanza con mia moglie stavamo passando con la slitta e ci siamo affacciati e abbiamo visto questo bellissimo posto. Allora ho deciso di stabilirmi qui e adesso ho fatto questa bellissima casetta e vivo qui con i miei elfi. miei piccoli angeli mi raccomando fate i bravi mettete a posto la cameretta vostra e se siete a scuola fate i compiti. Mi raccomando fate i bravi e mettetevi la mascherina così che io Babbo Natale posso darvi il mio diploma di bontà.